Approvato il piano attuativo per la ristrutturazione conservativa dell'azienda Motoguzzi di Mandello. Previsto il rinnovamento dell'area produttiva del museo, la creazione di una zona ricettiva con bar, ristorante, albergo e sala convegni, oltre alla realizzazione di un parcheggio interno con non tanta poste auto per i dipendenti. Con il nuovo posteggio si libereranno così l'area di via Parodi davanti all'azienda, oltre a vari spazi attorno al centro paese utilizzati quotidianamente dalle maestranze, portando sollievo soprattutto nel periodo estivo, quando le presenze turistiche sono levate e c'è necessità di maggiori posti auto. Il progetto di riqualificazione è firmato dall'architetto statunitense Greg Lin, noto a livello mondiale, e prevede un investimento attorno ai 25 milioni di euro. Un segnale positivo della volontà di Piaggio di mantenere la produzione Guzzi e Mandello. Per tutti gli appassionati, quest'anno il motoraduno si terrà dal 12 al 15 settembre con un ricco calendario di eventi.